Per cui siamo qui, perché Forza Italia, perché noi siamo degli inguaribili ottimisti e ci riproviamo ancora, perché vogliamo una nuova primavera per Forza Italia, una resurrezione di un nome che abbiamo dentro il cuore. Io credo che la situazione del Paese è così fatta per cui dobbiamo tutti, tutti ricominciare a lavorare sul territorio. Abbiamo pensato di ritornare a quello che facciamo nei primi tre anni nella nostra esistenza come Forza Italia. Abbiamo pensato di ritornare ai club e come nome, io non ero d'accordo, ma poi mi sono dovuto allineare con i sondaggi, il nome non sarà più Forza Italia, ma dato che io ho bisogno di sostegno, il nome sarà Club Forza Silvio, che dovranno nella zona loro assegnata far sorgere i club anche nei più piccoli paesi, nelle città far sorgere non un solo club, ma diversi club e verificare l'attività di questi club. Qual è questa attività? Punto primocemente la promozione dei nostri valori e delle nostre idee. Questi sentinelli del voto potranno anche fare i raggi X agli 800 elettori di ogni sezione e dividerli in elettori della sinistra, su cui sarà difficile fare qualcosa, in elettori già nostri del centro-destra, in elettori indecisi, su cui ci dovrà lavorare molto. E infine vorremmo che anche il club facessero del volontariato in un momento in cui troppe persone in Italia soffrono la miseria. Finisco, dominato dall'emozione, incitandovi a stare insieme con passione e con entusiasmo, per costruire un paese in cui nessuno possa trovarsi in uno Stato che ci appare come un nemico, in cui non ci siano giudici che possono eliminare gli avversari politici, uno Stato che garantisca a tutti delle condizioni di vera e completa libertà. Libertà! Io a questo sì, dico! Sì 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 dico! Grazie a tutti